funziona un po questo po di disturbi segnali da c'è un bel tannorama e beh sì roma è tutta bella tavolino pure è carino non l'ho preso un po un guizzolo ha preso l'altro giorno niente di che però invece è un sacco carino a parte la simpaticona però da per tutto è un posto particolare mi fa piacere se lo dici tu allora da quando sono venuta c'è stato un via vai di gente strana ma pure i tuoi capelli però sono strani è che ti sei fatto a bionda perché non l'hai notato proprio tanto tanto però mi pare avevo voglia di cambiare un po andiamo verso l'estate e allora certo cambiamo no però nulla di definitivo è l'importante è quello ritornano come prima guarda lei con gli occhiali e questa è la sagrada famiglia che è un compagno di classe che erano agito si chi era ok nicolò siamo nicolò e ti piace nicolò simpatico meno di me è vero che si perde l'equilibrio dio non è che si cade proprio è però fa uno strano effetto guarda qui è regalato uno dei momenti più belli che ricorderò sempre la scuola come va tutto bene alcuni professori sono cambiati è però diana quella di italiano la mia preferita lei non molla e quella splendida insegnante di francese e fino a fatto no lei se n'è andata peccato è arrivata tutta una brutta vecchia antipatica allora non ci vengono i colloqui bravo meglio di no sai un po ci manchi come vanno le cose adesso tutto normale mamma beh aspetta cosa vuoi sapere niente che voglio sapere come sta sola se è questo che ti interessa tu tutto bene va beh vieni qua comodo carino vabbè allora speriamo che tornerai più spesso speriamo la simpaticona la facciamo restare dentro eh via via dai via dai via non la voglio però va bene diciamo niente simpaticona è sempre meglio però di quella che stava a casa vecchia ricordi quella di simpaticone per la mamma ci ridicava sempre con quella a me non stava simpatica ma tu eri piccola come fai a ricordare però mi buttava tutto grazie! Grazie a tutti.